bentornati amici un saluto da luigi duchi oggi continueremo con il secondo volume della guida riguardante gli addon da installare subito dopo aver installato oma assistant abbiamo già fatto un primo volume oggi parleremo di una seconda puntata di questa sezione ecco l'altra volta avevamo parlato di file editor terminal and shh e samba share che erano tre comunque addon fra i primi da dover installare all'interno del proprio oma assistant oggi invece parleremo di un argomento anzi di due argomenti che abbiamo già trattato con le vecchie installazioni con la vecchia installazione di oma assistant mi riferisco appunto a duck dns e al mosquito broker per mqtt ricorderete che abbiamo già fatto degli articoli riguardanti questi due addon ma nella precedente installazione era necessario fare una lunga serie di comandi tramite terminale e varie varie operazioni per portare a termine il corretto funzionamento di questi due component mentre con assio la situazione ci risulta molto molto più semplice andrà tutto installato tramite addon da interfaccia grafica scrivere alcuni comandi ma molto molto più semplificati rispetto alla vecchia tipologia di installazione e quindi mi sposterei sul mio computer per farvi vedere tutti i vari step per l'installazione in assio e quindi tramite addon eccoci qua sulla bozza del secondo volume di questa guida come vi ho già anticipato andremo a parlare di duck dns e mosquito broker per quanto riguarda la mqtt ma facciamo subito una breve parentesi per capire che cosa è duck dns ricorderete che in passato avevo già fatto una guida riguardante duck dns e diciamo cosa ci può servire questo servizio di dns appunto chiamato duck dns la maggior parte delle persone hanno una connessione che sia dsl o fibra o comunque altri tipi di connessione che hanno un ip pubblico dinamico questo sta a indicare che l'indirizzo ip pubblico della propria rete cambia ogni tot di tempo quindi renderebbe impossibile l'accesso alla propria rete dall'esterno ci sono varie modalità per diciamo entrare all'interno della propria rete con questo ip pubblico dinamico si potrebbe ovviare all'indirizzo e pubblico indirizzo ip pubblico dinamico se si avesse a disposizione un ip pubblico fisso però non tutti i gestori ne forniscono uno e molto spesso quelli che lo forniscono diciamo che hanno un pagamento ri aggiuntivo per questo tipo di servizio ci viene quindi in soccorso il dns che cosa fa in poche parole permette ad un normale dns di essere sempre associata all'indirizzo ip di un medesimo dispositivo anche se questo ip dovesse cambiare nel tempo quindi a noi non ci interesserà nulla se il nostro ip pubblico andrà a variare noi punteremo sempre al solito indirizzo per accedere alla propria rete ecco per prima cosa sarà quindi necessario creare un account su dac dns lo potrete fare sulla pagina ufficiale che troverete cliccando qua sulla guida e una volta che vi troverete di fronte alla pagina principale dovete creare un account potete fare login con varie tipologie di account compreso l'account google ad esempio oppure creare direttamente un account su dac dns comunque qualsiasi sia la scelta che effettuerete vi troverete all'interno della pagina principale di dac dns una volta logati qui sarà segnato il vostro account che se avrete utilizzato l'account google sarà praticamente la vostra mail del vostro account google successivamente troverete un token che non è un altro che una serie di numeri che identifica il vostro account dac dns prendetene nota perché in seguito ci servirà sulla configurazione di home assistant nello spazio riservato sotto questo che nell'immagine cerchiato di rosso potrete creare un dominio quindi potrete aggiungere un dominio che vi pare qui quindi verrà ad esempio http due punti slash slash un nome a caso scelto da voi punto dac dns punto org cliccando su add domain domain avrete appunto uno dei cinque domini disponibili salvati prendetene nota ovviamente anche di questo ecco una volta che avrete il vostro dominio salvato e avrete salvato anche il vostro token recatevi su sulla vostra pagina home assistant e cliccate il menu supervisor che trovate nel menu a tendina in fondo al menu addons potrete scrivere dac dns e troverete appunto l'addon di dac dns cliccandoci sopra lo potrete installare prima però di andare a diciamo farlo partire lasciate 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 solo lasciatelo solo installato non fatelo partire e attendete un attimo recatemi in fondo alla pagina dell'addon troverete la parte compilabile sotto la voce configurazione e non dovrete far altro appunto che andare a compilare questa pagina in questo modo alla voce token ovviamente dovete inserire il vostro token che avete salvato precedentemente dalla vostra pagina home page di dac dns e come dominio andrete a scegliere il vostro dominio dac dns quindi il nome da voi scelto punto dac dns punto org una volta compilato potrete dare start al vostro al vostro addon dac dns e l'addon dac dns genererà al vostro posto anche i certificati ssl chi ci segue da un po di tempo ricorderà che nella procedura manuale che avevamo presentato nel passato dovevamo fare due procedure distinte una per creare dac dns e successivamente dovevamo fare anche un certificato ssl per accedere in https al posto di http alla propria installazione di home assistant con un certificato che andava rinnovato ogni 90 giorni in maniera manuale oppure creando un'automazione tramite cron come avevamo visto nella precedente guida ecco tutto questo verrà invece automaticamente fatto dall'addon di dac dns quindi non vi dovrete preoccupare di creare una firma ssl per il vostro dns e di dns e non vi dovrete neanche preoccupare di dover rinnovare i certificati perché l'addon dac dns ci penserà da sé quindi adesso che avete compilato e avviato dac dns recatevi in fondo alla pagina e leggete il log alla pagina dell'addon intendo troverete un log praticamente così quindi attendete che ci sia la voce donna verso la fine quindi che vi darà conferma dell'avvenuto successo della vostra creazione del certificato una volta effettuato questo passaggio quindi quando avrete la conferma che il vostro account è andato in porto, la creazione del vostro certificato è andato in porto dovete spostarvi sul vostro router sul vostro router dovete andare alla possibilità di aprire le porte ogni router ha una modalità diversa io vi faccio vedere praticamente questa del mio router che è un fritzbox ma comunque su ogni router c'è la possibilità di andare ad aprire le porte del dispositivo dovrete aprire la porta relativamente all'indirizzo IP del vostro dispositivo su cui è installato Mass Assistant quindi ad esempio se è 192.168.1.35 per esempio dovrete aprire la porta 8123 di quell'indirizzo IP quindi porta del dispositivo 8123 fino a porta 8123 porta desiderata esternamente 8123 selezionando appunto la porta 8123 dovrete poi salvare la configurazione di apertura porta e vi dovrete spostare sul file configuration.yml e come modificare il file configuration.yml? potete utilizzare uno dei sistemi che abbiamo appunto spiegato nel primo volume di questa serie di guide quindi potrete andare nel vostro file e sotto la voce http dovrete aggiungere queste voci ovviamente al posto di nome scelto dovrete andare ad inserire il vostro dominio dacdns quindi la voce e il nome che avrete scelto appunto per creare il dominio molto importante ricordatevi che a questo punto dovrete aggiungere la s davanti ad http perché si entrerà in modalità sicura quindi con protocollo firmato ssl ricordatevi anche che in fondo al dominio dovrete appunto apportare l'aggiunta della porta aperta che in questo caso è quella di base utilizzata da home assistant che risulta essere 8123 ecco c'è anche un'ulteriore opzione se non volete aggiungere la porta nella ricerca dell'indirizzo sulla vostra barra di ricerca quindi mettere solamente il vostro dominio dacdns dovrete fare una modifica all'apertura delle porte precedentemente vi avevo spiegato che andava inserito porta del dispositivo 8123 fino a porta 8123 e anche la porta desiderata esternamente era la 8123 mentre in questo caso su porta desiderata esternamente metteremo 443 di conseguenza apriremo sulla porta 443 esterna la porta 8123 e quindi non sarà necessario aggiungere due punti 8123 né in configuration.yml né andando a ricercare nella barra degli indirizzi il vostro dacdns che vi permetterà il collegamento alla vostra configurazione di home assistant ecco come vi dicevo se utilizzerete questa parte appunto porta desiderata esternamente 443 sulla 8123 non dovrete poi aggiungere nel file configuration.yml la porta in fondo al base url quindi dovrete mettere solo il vostro dominio dacdns seguito, anzi anticipato da HTTPS come vedete qua nell'esempio è possibile anche raggiungere il vostro indirizzo ip in maniera locale ad esempio se siete all'interno della vostra rete digitando ad esempio HTTPS il vostro indirizzo ip 2.8123 ovviamente questa diciamo il browser vi darà un errore di certificato perché non ha una firma SSL il vostro indirizzo ip e di conseguenza vi dirà che la connessione non è privata ma cliccando su avanzate potrete comunque accedere al vostro home assistant nel caso dovrete accedervi all'interno della vostra rete ad esempio se andasse via la connessione internet ecco adesso che abbiamo finito di parlare di dacdns parleremo di mosquito broker ricorderete che anche in questo caso ne avevamo parlato precedentemente sull'installazione di home assistant core che era l'installazione che avevo precedentemente e della quale vi avevo parlato in passato e il protocollo MQTT è un protocollo diciamo che è molto diffuso nel panorama di home assistant è un protocollo di comunicazione molto rapido che richiede pochissimi dati trasmessi e ricevuti per quanto riguarda la comunicazione dei vari device con home assistant e quindi è un approccio che si utilizza tantissimo nel mondo di home assistant per far comunicare il protocollo MQTT con i client che appunto sono si dividono in publisher e subscriber e inoltre gestisce il flusso dei dati e permette ai client di scriversi o pubblicare messaggi quindi ci sarà diciamo un broker che sarà installato sulla nostra macchina dove gira home assistant e poi ci saranno i vari device che comunicheranno i loro stati tramite appunto delle pubblicazioni e delle sottoscrizioni MQTT la migliore soluzione è quella appunto di installarlo direttamente sulla macchina su quella quale si fa girare home assistant e una volta era molto complicato dovevamo fare vari passaggi da terminale all'interno del nostro sistema operativo che in quel caso era Raspbian adesso invece le operazioni con Assio sono molto molto più semplici innanzitutto dovremmo andare in impostazioni alla voce utenti e andremo a creare un utente quindi aggiungeremo un utente con il nome e non utente uguale potrete selezionare quello che vi pare l'importante è che ne prenderete nota e potrete anche diciamo creare una password a piacimento che poi dovrete ricordarvi in un secondo momento spuntate anche la voce administrator per dargli diciamo i permessi di amministrazione e tornate nel menu supervisor quello che abbiamo visto già in passato che è esattamente proprio sopra il menu di impostazione cliccate appunto su supervisor cliccate anche su add-on e cercate mosquito broker che è questo qui installatelo e attendete però ad avviarlo prima di avviarlo scorrete in basso nella pagina dell'add-on appunto ci sarà una parte che si potrà configurare quindi che ci si potrà scrivere sopra e compilatela in questo modo potrete ovviamente copiare e incollare questa parte nel vostro pagina di configurazione dell'add-on comunque a grandi linee dovrete scrivere il vostro username che in questo caso di esempio ho utilizzato mqtt ovviamente qui dovrete mettere la username del utente che avrete creato precedentemente su omassistente mediante la procedura che vi ho spiegato prima e sotto dovrete inserire la password che è la password dell'utente che avrete appunto creato prima attendete ancora salvate ovviamente questo ma attendete ancora ad avviare l'add-on aprite il terminale dal menu a tendina ricorderete che abbiamo installato terminal eshh nella prima guida nel primo volume di questa guida se non lo avete fatto vi esorto ad andarlo a fare seguendo appunto quella guida e cliccando su terminale dovrete digitare i seguenti comandi cd share qui dopo ogni comando dare l'invio appunto mkdir moschitto invio cd moschitto e poi dovrete digitare nano access control list vi si aprirà un file di testo in questo file di testo dovrete copiare esattamente queste stringhe qua ad eccezione che dovrete cambiare la voce user e dovrete mettere l'user che avete utilizzato precedentemente qua che di conseguenza è l'user che avete creato in utenti quindi in questo caso io nell'esempio ho utilizzato mqtt e quindi ho riportato nuovamente mqtt home assistant e assio lo lascerete uguale e poi dovrete anche aggiungere il nome utente che avete utilizzato per loggarvi ad home assistant quindi il nome diciamo di accesso alla vostra configurazione home assistant dopo aver scritto questo salvate e con ctrl più x premendoli contemporaneamente vi verrà chiesto di confermare e voi fatelo premendo il pulsante y e successivamente cliccate invio sempre sul terminale dovrete digitare la frase nanoacl.conf potete copiarla direttamente e incollarla direttamente da qui e si apriranno un altro file di testo nel file di testo che si aprirà dovrete incollare esattamente questa parte qua e andrete a salvare il documento sempre con i medesimi pulsanti quindi ctrl x confermerete con y e poi premete il pulsante invio successivamente nel terminale digitate la scritta exit e premete invio per uscire dal terminale adesso non vi rimane che riavviare home assistant e al suo riavvio avete l'addon moschito configurato e di conseguenza avrete la possibilità di utilizzare il vostro mqtt broker all'interno della vostra rete bene amici anche questo secondo capitolo è giunto al termine vi ricordo che se mettete una bella spunta sulla campanella sui nostri video youtube verrete notificati ogni volta che viene proposto un nuovo video vi ricordo anche che siamo su tutti quanti social compreso telegram ed instagram e quindi potrete seguirci anche sui vari altri canali un saluto a presto da luigi ciao ciao